Uomini e donne, nuove anticipazioni, armandosi con Maria e crolla in lacrime. Le nuove anticipazioni di uomini e donne promettono ancora una volta grandi sorprese. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Armando incarnato. Il cavaliere napoletano si ritroverà a dover gestire una vicenda decisamente non facile. Per lui, infatti, ci sarà una amara segnalazione che arriverà dalla dama Aurora Tropea. Che lo metterà a dura prova tanto da rendere necessario un confronto con la padrona di casa del talk show Mediaset. Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Armando si ritroverà nei guai dopo le accuse di Aurora. Chi sostiene è che il cavaliere napoletano starebbe prendendo in giro la redazione del programma Mediaset. Il motivo, secondo Aurora, Armando avrebbe alle spalle un manager che in questi anni di partecipazione al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Si sarebbe interessato della sua immagine, occupandosi anche di procurargli dei lavori che gli avrebbero permesso di accrescere sempre più la sua popolarità. Insomma, accuse decisamente spezzanti quelle che Aurora ha mosso nei confronti del cavaliere. Dato che in questo modo ha messo in discussione tutto il suo percorso in trasmissione. Dopo che per anni è stato uno di quelli che andava a scovare informazioni sugli altri volti del throne over per smascherarne le malefatte agli occhi del pubblico. Ebbene, le nuove anticipazioni su uomini e donne rivelano che, in un primo momento, Armando ha provato a difendersi dagli attacchi ricevuti in studio e, dopo qualche parola di troppo da parte di Gianni e Riccardo, ha scelto di abbandonare la trasmissione. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione del talk show, riportate sui social da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che c'è stato spazio anche per un confronto diretto in studio con Maria De Filippi. Il cavaliere sarà protagonista di un faccia a faccia con la padrona di casa del talk show dei sentimenti di Canale 5. Pronto a confrontarsi con lei per chiarire come stanno davvero le cose. Nel bel mezzo di questo confronto con la padrona di casa di uomini e donne, Armando si lascerà andare alle lacrime. Il cavaliere avrà un momento di sconforto in studio, ma ammetterà di non aver mai preso in giro nessuno della redazione. L'uomo chiederà anche ad Aurora di portargli le prove di queste pesanti accuse che gli ha mosso e dirà di essere pronto a lasciare la trasmissione nel caso dovessero essere confermate. L'am spus la tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint, ma disting fara bling, ca nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultura hiphop ma gasesti construint, spui beton dupa care il intind si el devine tare in timp. Așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul, și acum rap-ul e moda ori, nu? Așa-i, și zici că stom fort, la cum mă comport, în treaba asta nu-i loc de confort, ricord și-o mor tot. Sunt un crucișetor, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mall, de când nu știai ce-mi scol, de când ascultam gangsta... Să ne事 ni spole un fac de spa...